Le prossime World Series of Poker Europe 2011 si terranno a canna nella sede del Casino Barriera dal 7 al 20 ottobre. Il programma prevede 7 eventi di gioco con in pagno un braccialetto nel main event previsto per sabato 7 ottobre. Questa è la prima volta che il Casino Barriera di Cannes ospita questa gara.